Uno speciale polifemo che è in quella di Leporano per la rassegna estiva restate a Leporano, in particolar modo serate d'autore, l'incontro con il notissimo scrittore e giornalista primo aprile, la discussione su una delle ultime sue fatiche letterarie intitolata appunto carnefici. Parleremo del nostro sud, degli schiaffi che ha subito il meridione, il mezzogiorno d'Italia nel corso dei secoli. Non vi dico altro, confrontiamoci con Pino Aprile e con chi ha animato questa splendida serata. Restate a Leporano, serate d'autore, incontro con Pino Aprile, il noto giornalista e scrittore, autore del libro Carnefici. E allora Aprile, un titolo davvero forte, chi sono questi carnefici? Sono quelli che chiamiamo parri della patria. Hanno sulla coscienza qualcosa che va dai 600 agli 800 mila morti fatti nel sud d'Italia con fucilazioni in massa, paesi interi rasi al suolo, la popolazione di paesi interi chiusa nelle case è bruciata viva, deportazione di almeno 100 mila persone e da 60 a 80 mila soldati borbonici chiusi in campi di concentramento e 600 mila persone chiuse in carcere già il primo anno, 1861. Altri paesi non sono nati meglio del nostro, però se lo raccontano, noi invece continuiamo a prenderci in giro con la favoletta di Garibaldi e i suoi mille. Ecco, nel 2018, ora faccio il bastian contrario, non potrebbe sembrare un po' come dire un ritorno al passato, un parlare di un qualcosa che non è più, un andare a rivangare un qualcosa di trascorso e quindi potrebbe essere anacronistico? Un paese non può esistere se non sa com'è nato, ma con una differenza che le cose che vengono raccontate, non sono cose successe 150 anni fa, ma che succedono da 150 anni. Cosa è successo un secolo e mezzo fa? Il Sud è stato depredato, le sue banche sono state svuotate, con l'oro rubato dalle banche del Sud è stato pagato il debito del Piemonte e finanziata la nascita dell'industria al Nord, per agevolare la quale sono stati anche usati i macchinari rubati nelle industrie del Sud. Sono stati sfasciati gli altiforni del più grande stabilimento siderurgico che esistesse allora in Italia e da solo era pari a quello di tutti gli impianti siderurgici del Nord messi insieme ed era in Calabria. Hanno sparato ad altezza d'uomo sulle maestranze della più grande officina meccanica del tempo in Italia, che era quella di Pietrarza, che era anche la più efficiente. Tant'è vero che quando i piemontesi si sono fatti la ferrovia dopo i napoletani, le locomotive sono andate a comprarle a Napoli e questo succede ancora oggi. Pino Aprile approfitto della sua presenza per parlare di una situazione particolare. Noi abbiamo la Lega al governo del Paese, non c'è più il termine Lega Nord, il nomen Lega Nord, abbiamo al governo Salvini, però Salvini è quello che ne ha dette di tutti i colori sui meridionali. Il passato non si può cancellare, ci sono le registrazioni, ci sono gli iscritti, ci sono i post su Facebook. Non è vero che non esiste la Lega Nord, perché la Lega Nord non ha voluto mischiarsi con gli terroni. Tant'è vero che esiste un doppio tesseramento, c'è il tesseramento per i settentrionali nella Lega Nord e il tesseramento per la Lega per Salvini al sud, quindi neppure li hanno voluti vicini di partito, schifati fino a... Ma li schifano, ma li schifano. Ecco, però il meridionale, mi scusi, anzi scusami, è così fesso che non se ne rende conto. Perché la Lega si sta espandendo a dismisura anche in territori che erano in un primo tempo preclusi. Le regioni rosse hanno lasciato spazio, il rosso delle regioni, di alcune regioni, ha lasciato lo spazio al verde, al verde padano. Al nord? Quello che viene... Terni è significativa. Sì, ma non solo terni. 6% anche della di Taranto è provincia, è un inizio. Quello che viene spacciato come un successo della Lega, in realtà è un fallimento. Perché la Lega ha preso al sud meno voti di quanti normalmente ne prendeva la destra. Quindi dire che la Lega anche al sud, così c'era... No, la destra prendeva più voti della Lega. Quindi se la sono venduta bene, ma la vera lettura della politica italiana non è destra e sinistra, non è politica. Non si potrebbe dire sovranisti e repubblicani, va di moda questo dualismo. No, 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 è geografica, è nord-sud. Ma questo da sempre, già appena unificata a quella maniera l'Italia, tutte le decisioni, soprattutto sulla spesa, la distribuzione dei soldi, la costruzione di opere pubbliche, eccetera, al nord non esisteva destra e sinistra, esisteva il nord. Si trovavano d'accordo. Cosa succede adesso? Succede che per il referendum del Veneto, della Lombardia, ho la richiesta fatta con lettera dell'Emilia Romagna per l'autonomia, che in realtà significa soltanto mi frego tutti i soldi e voi attaccatevi al tram. Questa roba viene detta intestata alla Lega, ma la Lega ha dovuto sbrigarsi a farla, perché la stavano facendo i Cinque Stelle del nord. E quel referendum e quel progetto di fregarsi tutti, so scappare con la cassa, è stato appoggiato da tutti i partiti del centro-destra, è stato appoggiato dai più rappresentativi, uomini politici della sinistra, del PD del nord. Cioè il nord quando c'è da acchiappare è compatto, non esiste differenza. Pino aprile, approfitto della sua presenza, sua tua presenza, per parlare di Taranto. La situazione ILVA non è parlare di Taranto, ma parlare di una scelta nazionale. L'ILVA a Taranto si muore come prima e più di prima. I dati sono inquietanti, lo scorso alcuni giorni fa c'è stata una tromba d'aria, e avrà avuto modo di vedere come lo spolverio, il polverino rosso, ha davvero invaso i nostri polmoni. Io personalmente sono per la chiusura dell'ILVA senza sé e senza ma, perché la vita viene prima del lavoro. Non si può lavorare senza vita. Però è una situazione rispetto alla quale bisogna pur prendere una decisione, non si può continuare a rinviare. Io su questo sono d'accordo con l'ex procuratore capo Sebastio. Nella nostra Costituzione tutti i diritti sono trattabili, ci possono contrattare. Negoziabili. Limitabili. Perché? Quello è la libertà, tu commetti un reato e vai in galera. Si fa per dire, non finisce nessuno in galera, veramente. Il sequestro limita il diritto di proprietà, eccetera, e via di seguito. L'unico diritto non negoziabile e trattabile è la sanità. Per cui, in teoria, non ci dovrebbe essere il dibattito sulla scelta da fare. L'ha già fatta la Costituzione, prima la sanità e poi il resto. Detto questo, non ci dovrebbe poi essere alternativa fra vuoi il lavoro o la salute, perché le due cose non sono inconciliabili. C'è uno storico dell'arte, grandissimo, uno dei maggiori d'Europa, Roland Gwenter, che ha collaborato alla soluzione di questo problema nella Rur. La Rur, che è il più grande parco minerario d'Europa, che è altro che Siderurgico a Taranto, oggi è, come tutti sappiamo, un parco naturalistico. E come è stato fatto questo parco? Con, in molta parte, con le idee di italiani, perché Roland Gwenter era molto amico di un mio amico, Tonino Guerra, che adesso non c'è più, era il più grande collaboratore di Fellini, Amarcord, eccetera, eccetera. E se tu vai nella Rur, oggi, ti siedi su una panchina, vedi che sui braccioli ci sono dei pulsanti, ti scegli la lingua, pigi e hai la voce di Tonino Guerra, che ti racconta delle fiabili, eccetera. La Rur non ha lasciato gente a casa, cioè si può fare e la gente può lavorare, e lavorare una cosa. Io sono convintissimo che questo si possa fare a Taranto. La differenza tra le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare è solo la volontà di farle e quella di non farle. Noi abbiamo, tra l'altro, un vantaggio. Roland Gwenter è così innamorato dell'Italia e della Puglia in particolare, che ha sempre detto che la mia seconda patria è l'Italia. Quindi noi ce l'avremo a disposizione. Bene, io ringrazio Pino Aprile. Che dire? Orgogliosi di essere meridionali? Sì, posso dire, diciamo perché ci aiuta. Però è una stronzata. Tu devi essere orgoglioso di aver fatto qualcosa di buono. Poi se sei Lappone, neozelandese, questo non conta niente. L'origine non ti deve dare nessun orgoglio. Uno, perché non l'hai scelta, ci sei nato. E quindi è stata solo una botta di fortuna. Va capito? Pensa di essere nato a Düsseldorf. Nasce e poi se è un credente chiede a Dio scusa, ma quello che ha fatto meglio di me, che è nato in Puglia, sul mare, si mangia le orecchiette, c'ha il sole, ha il vino buono, e a me mi ha fatto nascere la Dù. Poi quello diventa cattivo, avrà le sue ragioni. Siamo con l'Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano. Uno dei numerosissimi eventi di questa rassegna Restate a Leporano è un incontro con l'autore, serate appunto d'autore, e Pino Aprile ci parla del nostro tanto sofferente Sud. una pubblicazione, la sua appunto, che la dice lunga sulle nostre sofferenze e anche sull'orgoglio di essere meridionali. Io sono un meridionalista puro, quindi sin dalla nascita e continuo ad essere, non sono mai stato colonizzato, quindi la presenza di Pino Aprile qui è importante, lo aspettavamo da tempo sinceramente, anche perché avevamo bisogno di attingere da lui notizie storiche, certe, relativamente al nostro bistrattato Sud, che è stato chiaramente messo da parte e saccheggiato anche, se vogliamo, da una storia che poi ha portato all'unificazione d'Italia. Stasera avremo modo anche di capire come sono andate le cose. Ecco, una serata in cui parleremo chiaramente delle condizioni del nostro Sud, ma anche quindi una valenza, diciamo, sociale, ma anche una valenza proprio storica, perché viene ripercorso tutto un periodo storico, anzi secoli, in cui il Sud è stato vessato. Dobbiamo ringraziare Pino Aprile che ha fatto chiarezza e fa chiarezza su quella che è la vera storia di quel periodo, la storia del Sud, e va evidenzata e portata alla ribalta. La presenza di Pino Aprile qui a Leporano per serate d'autore, restate a Leporano, la discussione di una delle sue ultime fatiche letterarie, appunto, e carnefici, è merito anche di un maestro nella e della organizzazione di eventi culturali, Giuseppe Semeraro. Allora, come è nata questa idea e il valore che ha per noi tarantini parlare di cose del nostro Sud, di rivendicare i nostri diritti calpestati nei secoli? Con Pino Aprile c'è questa collaborazione riduta da tempo, poi lui è, diciamo, cittadino speciale del nostro territorio, lui a Taranto è sempre presente quando riesce a ritagliarsi il tempo, quindi gira nelle scuole. Quindi quest'anno ho voluto proporre a Leporano questa sua testimonianza, che stasera descriverà questo bellissimo libro. Tra l'altro l'abbiamo già presentato qualche mese fa a Cavallino, quindi ha avuto questo grande successo. Quindi Pino è un testimone vero delle lamentele, di tutto ciò che la gente non rivede più nelle istituzioni. E Taranto sta vivendo in particolar modo questa difficoltà di confronto tra lavoro e ambiente. Quindi un'occasione per fare anche un po' di storia, perché in Carnefici Pino Aprile racconta delle vessazioni dei calci in faccia che il Meridione ha subito nel corso dei secoli. Lui dà questa lezione storica a cui noi con attenzione guardiamo e impariamo. E la presenza di tanti, ecco, con molto piacere vedo che stasera la conclusione di questa rassegna, vi da tanta partecipazione, quindi la scelta di Pino Aprile è un successo importante. Siamo con la dottoressa Iolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore del comune di Leporano, alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli. Un momento di alta cultura e dico anche altamente sociale, quello di questa sera, uno degli appuntamenti dell'estate leporanese, serate d'autore, l'incontro con Pino Aprile, autore appunto di Carnefici. Parliamo della sofferenza del nostro Sud. Una serata in cui parliamo di storia e parliamo anche di sociale. Sì, questa serata, le serate d'autore, abbiamo voluto proprio creare questi due eventi. Stasera abbiamo Pino Aprile che parlerà del suo libro, I Carnefici, e tutto quello che ha subito il Sud durante... Dopo i secoli. I secoli, i secoli. E Pino Aprile sarà qui a spiegarci, ad entrare nella storia, a farci capire che il Sud è stato maltrattato e non se lo meritava. E forse continua ancora a subire. Continuiamo a subire perché il Sud è quello che subisce, subisce però abbiamo delle grosse potenzialità. Le potenzialità del Sud ci sono e bisogna valorizzarle. La presenza di Pino Aprile qui a Leporano, per restate a Leporano, la rassegna estiva e in particolar modo con serate d'autore, ha calamitato così la venuta di varie personalità, ecco, non persone, che hanno a cuore il Meridione. Anche persone, anche persone. Ecco, io dico persone innanzitutto e personalità è la terminologia con la quale ti qualifico. Dicevo, abbiamo qui la presenza di Mimmo Cavallo, un meridionalista doc. Tante le sue battaglie attraverso musica e parole. Però questo Sud continua a essere schiaffeggiato. Si vede che quella cosa che io ho cominciato a gridarla in musica nell'80 non è ancora finita, è un viatico, per cui io subito dopo gli anni 80, mi ricordo negli anni 90, diciamo, in grosso modo, nel periodo del riflusso, si diceva che il problema del Sud era stato superato ormai, invece poi c'è stato un grande ritorno, merito anche di Pino Aprile, con Terroni, e per cui credo che sia sempre un tema di attualità, anche perché non c'è stata una reale unione fra queste tante... Ora abbiamo la lega al governo, per cui... Un governo a attrazione nordista, dovremmo dire. Ci dà materiale per scrivere, continuare a scrivere. E cantare magari, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Viva il lupo. No, primo Levi, lui stava facendo primo Levi. Walter? Sì, no, solo un po'. La presentazione e la discussione qui a Leporano, nell'ambito di Restate a Leporano, serate d'autore di una delle ultime fatiche letterarie di Pino Aprile Carnefici, mi dà e ci dà l'occasione di affrontare la tematica, le problematiche del nostro Sud, con due colleghi, Nicola Pastore e Walter Valdaconi. E' un piacere perché, seppur ovviamente in ambiti televisivi diversi, però chiaramente certi argomenti ci uniscono, polarizzano la nostra attenzione. Allora, Nicola, come stai vivendo questa serata? Perché qui si rivivono secoli di storia, scopriamo le nostre origini e scopriamo anche quanta sofferenza i nostri padri, i nostri avi hanno subito e forse tutt'oggi noi continuiamo a subire, noi meridionali. Pino Aprile, proprio da meridionale, da giornalista del Sud, ha sperimentato e collaudato da tempo questo percorso, andando a rivedere e analizzare in maniera sempre puntuale quello che è accaduto nel nostro territorio. Ecco, dall'unità d'Italia in quella fase in modo particolare sono accaduti dei fatti che più sfuggivano evidentemente. I carnefici appunto si focalizza questo tratto di storia, quindi lo possiamo definire alla fine un'operazione identitaria che ci aiuta a rivedere il nostro passato e che ha condizionato anche lo sviluppo culturale, sociale del nostro territorio. E poi Pino Aprile fa un riferimento anche alla toponomastica che evidentemente ha subito le sue conseguenze da questi fatti. Quindi staremo a sentire dall'interpretazione autentica dell'autore quello che è l'obiettivo anche che vuole raggiungere e soprattutto che tipo di pubblico, che tipo di riscontro sta intercettando in tutti questi suoi momenti di confronto con la gente. Walter Baldaconi proprio colloquerà, interrogerà, oserei dire, Pino Aprile e qui si apre il discorso relativo al nostro sud, il gap del nostro sud rispetto al nord, della nostra Taranto rispetto ad altre parti in realtà d'Italia, quotidianamente, la periferia delle periferie. Allora, comprate il libro di Pino Aprile, questo è uno spot gratuito perché siccome viviamo in un periodo in cui tutti si sentono colti ma non hanno letto quasi niente, la storia è maestra di vita e mentre per esempio a Roma il governo attuale o i governi, non lo so vogliono tagliare l'alta velocità al sud Pino Aprile ci ricorda che la prima ferrovia d'Europa venne fatta tra Portici e Napoli quindi revisionismo storico, quello che fa Pino Aprile che significa? Noi siamo stati invasi dal Piemonte l'Unità d'Italia ha fatto degli eroi che Pino Aprile smonta con dei dati di fatto, con una documentazione durata 5 anni e quindi Nino Bixio o Garibaldi che per noi sono dei limpidi eroi lo scrittore giornalista ci dice che non era proprio così